Salve a tutti, sono Gianfranco Marini e voglio presentarvi con questo video un interessante lavoro di Piero Dominici. Un lavoro che è nato dalla mia idea di proporgli un'intervista, molto gentilmente Piero Dominici ha accettato, ma probabilmente posseduto dal demone della complessità, ha partorito ben altro che una semplice intervista. Si tratta di quello che definirei un vero e proprio foglietton politico-filosofico, politico perché c'è un'idea forte di formazione, di educazione, di scuola, e quest'idea prende corpo in un progetto educativo che non è acefalo, come spesso capita di questi tempi, e che non insegue a tutti i costi o è affetto dalla sindrome del nuovismo, magari del nuovismo nella sua versione tecnologica. E però se non finge nemmeno che tutto vada bene nella scuola e che si possa continuare ad andare avanti, come si è sempre fatto. La politicità di questo discorso, di questo foglietton, è proprio data dal fatto che ci sono delle idee molto forti, e si fanno delle scelte molto precise, e queste idee sono le finalità dell'educazione, che sono tante e tantissime, ma c'è uno specifico pedagogico-educativo che è dato dalle teste ben fatte, dal pensiero critico, dall'educazione alla complessità. E' anche un foglietton filosofico, o filosofico nel senso più alto del termine, perché si tratta di itinerari che Piero Domenici percorre nel territorio della complessità, avendo di mira l'intero e non le sue parti. Avendo di mira, più precisamente, la soluzione di quella che lui chiama la questione culturale, proprio a partire dalla formazione, dalla scuola, allo scopo di realizzare un nuovo contratto sociale, che sia finalizzato ad una cittadinanza inclusiva e partecipata, e questo quindi coinvolge per intero la società italiana, in senso specifico, quindi le coordinate di questo territorio della complessità che Piero Domenici attraversa sono tante. C'è la questione educativa, a cui abbiamo già accennato, c'è la costruzione della persona e l'esigenza di un nuovo contratto sociale, c'è la necessità di una progettualità operativa che innovi, ma secondo un concetto inclusivo e partecipato di innovazione, c'è l'esigenza di superare il principio di responsabilità che sta alla base di quel modello sociale, ancora feudale, familistico, amorale, che ostacola ogni cambiamento nella società italiana, cambiamento che quindi non è il frutto di una innovazione tecnologica o legislativa, ne può esserlo, o economica, ma è il frutto di un cambiamento culturale. Tuttavia, quello che più mi ha colpito è il modo di procedere di Piero Domenici in queste sue passeggiate nella complessità, perché affronta sempre gli stessi problemi, però da punti di vista differenti, e percorrendo questo territorio secondo itinerari che sono differenti. Per spiegarmi ricorrerò un esempio. L'educazione e la formazione sono di per sé un argomento complesso. Ancora di più lo divengono se, come nel caso di Piero Domenici, educazione e formazione devono divenire il motore di un cambiamento culturale che deve innescare un processo di cambiamento che riguarda l'intero della società italiana. Come conoscere la complessità per poi governarla e progettare un percorso che sia anche operativo? È come se volessimo conoscere una città per orientarci in essa e viverci, una città per esempio come Firenze, che si estende nello spazio, ma si estende e protende anche nel tempo. Ecco, come possiamo fare? Una delle possibilità di conoscere la complessità è quella di disporre di una cartina. Potremmo anche studiare a memoria questa cartina, magari ci sapremo orientare, ma altro è conoscere una città, altro è viverci. Non basta la cartina, non basta per dominare, controllare, abitare la complessità, la strada della semplificazione, che pur è necessaria e fondamentale. Ed ecco allora la soluzione che adotta Piero Domenici, attraversare il territorio della complessità, percorrendo molteplici sentieri differenti, che si intersecano tra di loro, che si sovrappongono, che ci fanno scoprire ogni angolo della città, fuori di metafora, scoprendo nuove relazioni, tra concetti, tra problemi, tra possibili soluzioni, e ritornando su determinati temi, ma guardandoli da un altro punto di vista. Perciò il discorso di Piero Domenici non è un discorso, ma sono tanti discorsi che sono tenuti insieme dall'esigenza di abitare e di vivere nella complessità per conoscerla, proprio come accade quando vogliamo conoscere una città per viverla, che appunto la percorriamo e la traversiamo, scoprendo odori, scoprendo opportunità, scoprendo pericoli, scoprendo motivi di interesse, scoprendo la sua storia, il suo modo di essere, interagendo con essa, per abitarla e viverla nella sua concretezza, nelle sue tante dimensioni. La stessa cosa capita quando si affronta il tema che affronta Piero Domenici, e per questo ho deciso di individuare delle linee di frattura, o se vogliamo, delle, chiedo scusa, volevo dire, dei cammini differenti, e di fare di ciascuno di questi percorsi una sorta di puntata di questo foglietton politico-filosofico che verrà pubblicato su Next Learning. Vi ringrazio e vi auguro una buona lettura. Grazie a tutti.